Come si chiama? Gabriele Lusco. Eccolo! Di dov'è? Torino. Io non ho davanti dei, ma idealmente tutti i registi di lega volley femminile e anche maschile. Parlo del media, del media diciamo quello non Rai Sport, lato. Certo, esatto. Com'è il livello se lo dessimo in mano a un re Nazareno Balani? No, dico quel nome perché è un nome anche... Com'è il livello proprio della ripresa? Se, di nuovo il nome, Giuseppe? Gabriele. Mi scusi, Gabriele? Lusco? Lusco. Lusco, fatto parlo. Gabriele Lusco, se lei giudica il suo lavoro e quello dei colleghi, mi dà un voto dove dovete migliorare, insomma, è una cosa proprio di esegesi. Io racconto tanto i media e ho raccontato il regista del maschile, un signore della Rai con i capelli bianchi, lunghi, adesso mi sfugge il nome, comunque, che lavora con Maurizio Colantonio. Com'è proprio? Quante telecamere, ad esempio? Noi facciamo, abbiamo un capitolato con tre telecamere, sono due. Ma su ogni campo, anche in A2, no? No, in A2 solo una telecamera, facciamo monocamera. Dove stai in A2? Non ho mai visto una partita. Dove viene piazzata quella, quell'unica? Lato corto, cioè lato lungo. Lato lungo a metà? Esattamente. Ma c'è uno che la muove lì o in telecomando? No, 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 la muove. Quindi con una si riesce a offrire un prodotto dignitoso? Sì. Perché se no non lo fareste? Certo. Mentre invece la A1 la facciamo con tre camere. Dislocate dove? Allora, una a lato corto. Ma in mezzo? Non presidiata, sempre in centro. Esatto. Una invece lato lungo, che invece è la A1. Ah no, ha detto lato corto, mi scusi. Una a lato corto. Ok, quale? Ne battezza uno. Sì, la A1 è la lato lungo, che fa tutti i contributi. Ottimo. Poi c'è il bordo campo, invece, spalla. Bordo campo dove va? In panchina? Sì. Ah, quello degli audi anche? Sì, esattamente. Esattamente. E poi l'altra? E l'altra invece è lato corto, che serve per replay. Io non avevo l'accredito perché pochi posti, l'ho guardato un po', visto, un po' con gli smartphone, un po' ho la tv in macchina. C'è stato un time out verso la fine di Daniele Santarelli che è stato ascoltato. Poi, non so la scelta, ma è sparito l'audio. L'audio dipende da lei. L'audio dipende anche da noi. No, da lei in persona, no? Sì. Aprire l'audio, la panchina e chiudere? A volte sì. A volte sì. Quanti anni sono che fa questo? Io dal 2014. Oh, se io avessi, io ho visto Rai Sport. Sì. Se io avessi visto... Rai Sport ha l'idea della dotazione tecnologica? Eh beh, sì. Quante? Quante sono le telecom? Eh, saranno almeno oggi, ce ne erano tre, quattro, cinque. Ma non usate quindi lo stesso segnale? La tecnologia è la stessa. No, io intendo questo. Loro ne hanno sei. Sì. Cioè, lei usa solo le sue tre, gli altri usano le loro sei? Sì, ma quando c'è, quando ci sono loro, il segnale ci viene fornito da loro. Ah, e lei cosa, i vostri tre cosa fanno stasera? No, 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 i tre, i nostri tre non c'erano stasera. Ah, buono. No, 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 stasera abbiamo fatto dei conti. E lei, se mi permette la battuta, lei invece perché c'era? Cosa ci faceva? Io ho fatto la camera per le VFTV, per le interviste, post partita. E quella camera che è venuta Paolo Algonu al... Ah, e quella l'ho vista. Cioè, ho intuito perché stavo scrivendo, poi c'era il pullman, poi sa, un impatto forte. Oh, invece, mi scusi, ma mi aiuti in questo, che mi piace. Ma, quanti anni sono che fa Vole Femminile? Vole Femminile del 2014. Oh, porti pazienza, ancora il nome per la... Gabriele Lusco. Gabriele Lusco, ma mi racconta in questi sette anni l'episodio più boccaccesco, l'episodio più una bestemmia? A me, no, le spiego io, vengo fermato ovunque, perché il telefono... Cioè, anche, insomma, basta un attimo, c'è uno col... All'ennesima... Cioè, una bestemmia, delle volte la mando in onda. Certo. Ma dico così, due episodi curiosi, magari se è particolarmente curioso, non mi dice la protagonista, ma così, le due cose più che lei racconta a cena. Ecco. Sai che oggi ho sentito che... Ma intanto, voi non andate in spoglietoio. No, magari... Cioè, non lei, ma stasera, no? No, no, non volevo fare doppi sensi. Intendo, è vero che 64 vittorie non c'è pathos. Anche 40-38, 29-30... Però, non andate, per non esagerare, lei sa che nel calcio, una manciata anni fa, Sky aveva quel prodotto brandizzato, eccetera... Voi non andate, non lei, ma né lei, né Rai Sport, né anche Sky per la Champions, non andate. Perché comunque, insomma, ci vorrebbero altri soldi, cioè... Sì, sì, sì. C'è una questione di denaro. Le ragazze... Si potrebbe fare molto, molto di più, ma chiaramente... Le ragazze, il time out, ascoltabile, lo soffrono, gliela cambio. Diceva Matteo Piano, coi maschi, che dà un po' fastidio. E io sono uno che dà fastidio. Stasera ero lì al pullman, loro hanno ballato, c'era una luce singolare da discoteca, quasi mi ha minacciato il corpulento, non so se team manager... Dico, le ragazze farebbero volentieri meno? Ma sì, secondo me sì, anche perché è un momento un po' privato. Il time out? Sì. Invece... Però, però... Diciamo che dovrebbero capire, secondo me, che è quello il momento che entri nel cuore della gente. Esattamente. Quando senti la loro voce, quando senti le loro emozioni. E quando ha visto... Io non mi aspettavo di vedere Caterina Bosetti piangere stasera. E non ho neanche capito perché ci ha detto alcune sanno che sarà l'ultima occasione, ma sono particolarmente vecchie, no? Forse alcune non restano. No, probabilmente non restano in una squadra di così alto livello. Ah certo. Lei è appassionato o è un percaso? No, io sono anche appassionato di voi. Quanto... Come posso dire? E se io fossi stato... Quando ci sono le tette delle camere, no? Lei è il regista? È il regista. Se io mi piazzo in una partita così, senza Rai Sport, quindi in molto... Cioè, così, 40-38. Se io mi piazzo, lascio, ce l'ho in macchina il supporto, io vado a fare un giro. E quindi stigmatizziamo. Lì viene tutto, senza pausa, io non faccio taglio in genere. Ci sono momenti in cui lei manda a fare i suoi colleghi? Cioè, ci sono momenti di tensione? Non dico se va via la luce, perché se va via la luce non dipende. No, no, no. Che non fanno quello che viene detto. Bravo, gliela cambio. A me capita, capita, non so, a me piacciono i numeri. I numeri, se ne metti tanti, è rischioso, perché... O anche, non so, invece che naturalmente, scrivi naturale. Ed vai a leggere, non puoi fare il fenomeno. La gestione dell'errore di un suo collega, come avviene? La dimentica? Sa che i calciatei... Io la dimentico, io la dimentico. E gli altri? Non tutti, dipende dal carattere. No, 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 la si dimentica. Però... Come in campo, qui? Sì, magari un cazzettone esce, perché... Ma in live, in quell'istante? Sì, perché se mi sbaglia una ripresa... Ecco, cosa vuol dire sbagliare una ripresa? Eh, la giocatrice batte e io sono da un'altra parte. Ah, ok. Molto semplice. L'ultima cosa, prendiamo, ad esempio, all'europeo. Non so se... È più facile sbagliare con tre camere che con cinque. Ah, certo, certo. Che con sette, perché uno, magari, che è disattente. Lei ha visto gli europei ultimi persi dall'Italia in semifinale contro la sette? No, non lo sono perso. Paolo Egonu era in rottura prolungata. Quindi ha sbagliato... Lei sa che lei sbaglia spesso... Calcia, come lei... Fuori. Fuori. Se calcia in campo è imprendibile. Delle volte calcia fuori. Batte fuori. Butta fuori. Ma... L'hanno presa in giro sui social. Lei poi è andata con Maurizio Colantoni, si è, insomma, sfogata. Hanno detto che pesto. Ecco, il discorso della riga. Con tre, secondo me, lo trascura perché deve fare delle scelte. Con cinque, magari... L'europeo... Anzi, scusi, proiettiamoci all'Olimpiada. Sì. Quante telecamere, secondo lei, per la finale? Siccome si pensa ai tagli a sé. Io ne ho visti montate fino a 16. Ah, però. Ma anche nel volley femminile? No, più nel calcio. Lei fa anche maschi? No. Ma è il suo unico lavoro? No. Cioè, è il mio lavoro, sì. No, volley, solo volley, no, no. Io seguo palla a nuoto. Non per iSport, per le leghe? Direttamente per le società. Ah, per le società. Quali posso chiedere? Torino 81. In che torriere? Serie A2. E poi? Poi... Quindi è un free dance? Sì, sì, sì. Cianco. Solo io lavoro... Lei poi è gentile. No, no, io... No. Io lavoro per denaro. No, vabbè, ma... Ma la firmano? Io seguo anche il Moto Mondiale, seguo anche... Sempre come camera? Sempre come... O come regista, perdonso. Esattamente. Ecco, mi scusi, un regista come lei, no, sa ancora fare il cameraman? Stasera aveva la... Stasera ero cameraman. Ecco, non è pesante. Io sono... Sono pesante, ma ho... No, bisogna... Bisogna avere l'allenamento. Non l'ha mai... Non l'ha mai caduta? Non l'ha mai rotta? No. No, no, è che... Piuttosto ho fatto i ginocchi. Ah, ecco. Invece, alla fine di una serata, no? Le resta l'adrenalina. Lei adesso, fra due giorni, no? Sì. A parte che magari pensa alla palla nuota o pensa ad altro perché non ha la mia dipendenza mentale. Lei se l'è goduta la partita oppure... Comunque il gioco è intenso. Oggi sì. Sì? Oggi sì. La prima invece è la più difficile? Anche per lei, no? Sì, però oggi... Oggi non era tutta responsabilità mia, quindi... Quindi è quando è regista che non vede la... Quando è regista non me la godo. Le rimane poco? Non mi ricordo niente. Ecco, se lei era regista, oggi, le restava dentro le lacrime di Catarina Bosetti? Forse sì, forse sì. Forse quello sì... Sì, però bisogna essere freddi, il problema è quello. Ecco lì. Magari dopo, magari dopo. Le robo l'ultima. Quando è che il regista della diretta censura... C'è stata molta polemica per l'intervista... Per l'infortunio grave a Catarina Bosetti una manciata d'anni fa. Gianluca Pasini della Gazzetta, insomma, in maniera di classe, ma ha preso le distanze da Maurizio Colantoni, della Rai Sport, perché ha fatto vedere un infortunio quasi drammatico. Lei sa che molto, lei sa il grande fratello, non l'abbiamo inventato noi. E ecco, c'è un momento in cui immagini, girano su internet delle immagini di calciatori, che un fallo, qualcosa, si vede una certa cosa. Se accadesse nel volley, no? E lei deve essere così pronto da, non so, si rompe una maglia, si rompe un pantalon... Adesso non voglio essere volgare, però come fa? In quell'istante lei deve... Zac! Giriamo la telecamera? Parte che non succede. Cambiamo. Noi è ancora più veloce. Cambiamo l'inquadratura. Il cameraman sta lì e cambia l'inquadratura, è molto molto più veloce, anche semplicemente con una larda, in modo che almeno non... La lascio su. Invece mi dà un voto all'emozione della pallanuoto, a parte che è una 2, è una roba diversa. Di dove è lei? Anche la 1, a Torino, a Torino. Ecco, il torinese. Ecco, allora la chiudiamo così. Voto alla pallanuoto, voto a qua. Ha mai fatto calcio, sì? Calcio no. No. Cioè, sì, l'ho fatto, ma a bassissimo livello. Ok. Alto livello. Tiene la Juve o il Toro? No. Sono tutto il resto del Toro. Perfetto. Quindi non è che vorrebbe fare Juve Porto, no? No. Fa anche senso. No. Allora, no, i due voti, pallanuoto e i voli femminili. Allora... Pallanuoto è bella. Non è facile, è un po' più difficile da capire. È bellissima, bisogna seguirla. Le inquadrature sott'acqua? No, noi non le facciamo sott'acqua perché... Perché in A2 avete poche telecamere. Esattamente, però... Quella dell'Olimpiade è bella. Però mi fanno i complimenti, non perché voglio... Quante telecamere siete? Mezza forse? Una. Una. A volte una... Ma ce l'ha lei in... Come la muove lei? Dipende, dipende. O sto in regia o sto in camera. Ma se sta in camera, c'ha un supporto o la tiene? No, 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 tre piede. Tre piede. No, quella deve stare. La pallanuoto le rimane un po' di più in testa della partita o di meno? Alcune partite sì, perché magari finiscono 10 a 3. Mentre invece il volley comunque... Cioè, ti può restare una finale, diciamo. Chiudo con questo, caro. Ma questo è un lavoro che io faccio con un enorme trasporto gratis a mie spese. E sono... Le dirò, non impazzisco sulle immagini. Io faccio brutte immagini e vede che muovo il telefonino in maniera... Ecco, la vostra categoria. Di fronte a un evento come stasera, non c'è il pubblico, quindi si perde parecchio di emozioni. Come dire, quando sarà in pensione? Lavorerà, lavorerebbe anche gratis. Cioè, è bello per... Io non lavoro a credito, perché c'è Covid, quindi pochi posti, ma anche non viene detto. Però esageri e allora sai, è meglio, ma... Esageri nel senso del numero di ore di video. Dico, è anche gratis? Io non ho davanti a lei. Ho capito esattamente la domanda. Io non ho davanti a lei. Tutta la sua categoria. Ho capito esattamente la domanda. Senza passione non si va avanti. P.G. Bonelli, regista della RAI, ovviamente lo conosce. È uno specialista del volley, è un prestato, perché alle volte c'è un buco e ci va un... Allora, io... Non lo conosce abbastanza. Non posso giudicare i colleghi, perché c'è sempre un motivo. Quanti anni sono che fa questo lavoro? Dal 2001. E prima? Quanti anni ha? Io ne ho 47. Prima? Prima facevo l'elettronico. L'elettronico? Beh, insomma, non è un salto, speravo l'imbianchino. No, speravo... No, 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 vabbè. No, giornalisticamente speravo uno stacco incredibile. No, no, vabbè, però per me da elettronico è più semplice passare all'immagine digitale. Esatto. Quindi in un certo senso non è stato un gran salto. L'ultima davvero, come si immagina, se noi ci rivedessimo nel 2050, come immagina tutto questo che ci siamo raccontati, non le emozioni, perché dipende da... Ma proprio la tecnologia, quante telecamere e così via? Boh, tante, tante, sempre più telecamere. Ad esempio, un giudizio su Dazon. Dazon fanno delle inquadrature ardite, ha visto? Sì, sì, sì. Non è appassionato di calcio, ma qualcosa ha visto. Come si immagina quindi nel 2050 questo spettacolo con più o con di meno? No, con più, con più. Tra l'altro, rispetto a quando lei iniziò, la tecnologia, la parità, costa di più o di meno adesso? No, costa meno. Costa meno. Sì, sì. È sua? È sua di persona, no? Lei si porta qualcosa? Tutta roba mia. Ah, ecco, quindi quando è usurata se la paga lei? Sì, esatto. E se cade c'ha l'assicurazione? Sì. Se la rovida? Sì. Moglie e figli? Moglie e figlia. Ma sono appassionati? No, meno. Cioè, senza Covid venivano con lei? No. L'hanno guardata in tv? Non credo... La pallanuoto? Oggi la pallanuoto vengono un po' più volentieri. Sbaglio, mi aiuti lei? C'è una pallavolista, mi confondo, fra Chiara Faro, Marina Lubian, direi... Ma Lubian che veniva la pallanuoto? O ha genitori di... Ha genitori di figlia di un pallanuoto. Mi ha fatto un regalo enorme.